Hai raggiunto un accordo che la soddisfa alla fine sulla stop del blocco dei licenziamenti? Guardi, all'interno di questo decreto ci sono ulteriori strumenti per gestire questo passaggio che possono aiutare le imprese, possono aiutare i lavoratori, ma anche questi strumenti avrebbero un senso del tutto diverso se ieri non ci fosse stato un accordo tra le parti sociali che considero un grandissimo risultato perché impegna tutti ad utilizzare questi strumenti al meglio a utilizzarsi per evitare quanto più possibile danni di carattere sociale per mantenere i livelli occupazionali, per mantenere la capacità competitiva delle imprese credo che sia davvero quella di ieri una buona notizia e mi auguro che sia anche il presupposto per una ripresa di un metodo che può affrontare più in generale le sfide che di fronte al paese credo insomma che il dialogo sociale sia una pratica molto importante, molto utile che può davvero dare una risposta alta alle domande che vengono dal paese Ma l'accordo non si poteva trovare prima? Se fosse stato possibile forse l'avremmo trovato Grazie sul cashback è stato risultato perché non si vengono Senta Ministro ma 60 conti I progetti che avevate